fa sì che sul villaggio si elevino due metri aggiunti di neve. Ma la quantità di neve pone un altro interrogativo per i nostri esperti. Un crinale formato da 170.000 tonnellate di neve non ha capacità di tenuta e si distaccherebbe ancora prima di raggiungere simili proporzioni. Ciascuna vetta ha uno o più mantinevosi costituiti da una serie di strati separati.